Non partire prima Nicolò, ottimo colpo attacco. Non partire prima. Non partire prima, non partire prima. 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 bella battuta vieni 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 prima che c'è il 100 ma addio perché la forzata è sua perché non ha la difezione ragazzi ma battete di là che non attacca piega le gambe e tienila vicino a te che fuori ha sta povero crema stai ricevendo su quattro quinti di campo un po' eccessivo così bellissima attività molto bene la battuta di là in centro sfruttala ecco 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 Grazie. O dite al bimbo di Cernobil di sedersi che non vorreste facersi male. Niccolò ha toccato la rete. Prendi quella lì, che non sono intelligenti. Sì, quella è abbastanza, poverino. Dante non sa neanche dove si trova. Grazie. 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 bene va tutto finisci finisci ora palla linea fina su Zanichelli sull'esterno anche facile non serve forzare molto bene vai vai là devi stare in posizione su quello che batte fin dall'inizio non stare al centro e andare a cazzo non ti va tre volte gli hai preso Dante che ha toccato un pallone bello attacco bravo Savini la battuta si vede da come sei presentato una puzza di alcol in una maledicina dai 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 ma se rimani fermo a vedere l'azione è quello che succede bello va tutto ma tutto massacriamo l'imbattuta non devono avere respiro male bravo bravo vicino bravo addio il secondo oggi è giusto sei nano ti faccio vediamo odore di alcol molto piace ma si senta qua è una vada male dai dai non far cascare sti palloni ma cazzo ma cazzo ma sono punti gratis questi e vai 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 c'è il nave la terapia salini devi abbassare l'alzata non c'è bello è troppo alta va bene questa è davanti toglie le cosculi le videocamere per secondi secondi come il passaggio di un treno ok dai no è tua sei pari troppi errori in battuta ragazzi troppi errori in battuta usa le gambe salini abbassa questa alzata non deve ruotare non deve ruotare guarda 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 io caio guarda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.